Il colore, l'atmosfera, la gestione delle luci è il lavoro del colorista. Appena ho in mente una storia, penso all'atmosfera che voglio dare o che la storia richiede e poi da lì cerco una tecnica che possa andare bene. All'inizio ero molto più accademica e invece adesso più si lavora, più le idee sono tantissime. Per cui bisogna arrivare a scattare dei progetti, anche se sono belli, perché non c'è tempo di farli. Invece ovviamente all'inizio è più difficile trovare una storia da raccontare. C'è un po' l'incubo di dover raccontare una storia, mentre poi alla fine non hai tempo di raccontare tutto quel che vorresti dire. Non lavoro, faccio un nuovo storyboard dall'inizio alla fine e quindi inizio magari a scrivere una sequenza, una scena e sviluppo tutta quella scena lì. E poi da lì allargo la storia. Quindi non è che la sceneggiatura fai prima? No. Ok. No, magari parto. Quindi tu hai un'idea e poi parti? Sì, io ho un'idea, poi magari mi vengono in mente delle scene o dei dialoghi e quindi parto da quelli e poi ci aggancio al resto della storia. E ti capito di avere magari il finale, è utile il finale averlo oppure lo trovi facendolo? Lo trovo facendolo. Magari ho un'idea di finale che poi varia, cambia. Magari è un linguaggio che è sempre in movimento, ha tantissimi schemi, meccanismi che si possono modificare. Per cui avere una gabbia, avere delle vignette, avere il ritmo, il dialogo, i gesti, sono tantissimi elementi che raccontano. E tutto questo affollamento di informazioni fa sì che tu possa cambiare tantissimo il linguaggio. Ed è veramente interessante quello, anche cadere dentro, lasciarsi cadere dentro il meccanismo del fumetto. Ci sono tre passaggi, uno con un primo colore ad acritico con i pennelli. E tu fai direttamente l'acritico o c'è la matita prima? No, c'è la matita. Ok. Vedi, c'è una matita molto debole e poi vado a... che cancello, perché sennò poi rimane. E quindi poi inizio con il primo colore e poi aggiungo un secondo colore per definire di più le forme. E poi se volete vi faccio vedere il terzo passaggio, che è questo qui. Ci sono i testi. Ci sono i testi e c'è un terzo colore aggiunto, che è questo viola, con cui disegno alcune cose, per esempio alcuni scenari, alcuni personaggi, li disegno solo col terzo colore. Appena ho in mente una storia, penso all'atmosfera che voglio dare o che la storia richiede. E poi da lì cerco una tecnica che possa andare bene. Ok. Per esempio, Salvo Imprevisti, che è l'ultimo libro, ha una parte tutta a computer. È una intelligenza artificiale che parla. E allora ho pensato di lavorare solo col computer e solo in digitale e aggiungere questo retino che è un po' dall'idea di filtro. I dialoghi arrivano sempre subito. Cioè, molto spesso sono un motore delle scene. Secondo me sono importantissimi i dialoghi e danno non solo ritmo, danno atmosfera, costruiscono i personaggi. E mi piace proprio lavorare così a sequenze perché mi permettono di conoscere di più i personaggi. Perché appunto attraverso i dialoghi, attraverso i gesti, i loro movimenti, alla fine arriva il momento nella costruzione della storia in cui i personaggi si muovono da sé. Mi piacerebbe prima o poi misurarmi con una storia seriale che non ho mai fatto. Anche un po' perché effettivamente finendo una storia fumetti lunga, un romanzo fumetti, ci si trova innamorati dei personaggi, assolutamente tutti, di cui si è raccontato. E' brutto lasciarli a fine storia e dire basta, io questi qua non li vedrò mai più. Finisce la loro storia qua e li saluto. Poi potrò rileggere la loro storia ma la loro vita è finita. Tu hai un percorso da fumettista e poi sei passata al colore oppure sempre voluto fare questo? No, io ho sempre voluto fare la colorista. Disegno ma non... se posso scegliere coloro. Tu pensi che un fumetto a colori si venda di più perché ha colori oppure... Sì. Perché il pubblico è più... Perché... Catturato. Sì, cattura di più, ha una maggiore leggibilità. All'estero è molto più difficile vendere un fumetto in bianco e nero. Anche qui in Italia c'è la cultura del bianco e nero, siamo cresciuti tutti con quello. Quindi il colore è già una cosa più strana. Però in Francia si vende un fumetto in bianco e nero, assolutamente. Però il 90% dei fumetti ha colori perché sanno che altrimenti ne venderebbero molte meno copie. Qualsiasi colore che tu fai in digitale poi verrà stampato. E tu ragioni anche sul tipo di carta, il tipo di stampa, l'hai formato magari, immagino anche grande tipo. Infatti, per Aldo Brando ci mandarono le prove di stampa che possiedo. Perché il mio monitor quasi sicuramente non sarà tarato. Ma queste sono le prove di stampa prima di... Prima di stampare il volume, prima della consegna definitiva. E tu hai voluto fare delle modifiche su queste prove? Assolutamente. Io e Francesco Daniele, l'altro colorista di Aldo Brando, abbiamo verificato che, per esempio, in stampa i gialli venivano aumentati, invece i rossi tendevano a perdersi. Ora non so in video se cambierà. Per me cambia moltissimo, rispetto poi al monitor cambia tantissimo. Questi tutti gialli di questa vignetta, nella versione definitiva, sono molto più spenti. Ai miei occhi. Mentre magari uno pensa che fare il colorista sia più o meno riempire gli spazi bianchi, come da bambini, in realtà il lavoro del colorista è praticamente la fotografia. Cioè, uno ha lo sceneggiatore che ti racconta la storia e ti dà un'indicazione magari delle inquadrature, non necessariamente. Il disegnatore che ti mette in scena le inquadrature. Poi tutto quello che è il colore, l'atmosfera, la gestione delle luci, è il lavoro del colorista. Quindi l'uso delle luci per dare un senso alla lettura, l'uso del colore per dare l'atmosfera, quindi tutto quello che deve provare un lettore rispetto alla scena. E infine, chiaramente, la profondità e tutte le questioni più tecniche. Se non mi è chiaro quello che devo raccontare, io non posso fare un buon lavoro. Devo conoscere non solo la natura degli elementi di una tavola, ma anche l'obiettivo della narrazione. Se la cosa importante di tutta questa scena fosse stata una di queste casine qua, che si perde nel mucchio, io avrei dovuto indicare con la luce il punto focale. Spesso inizio a lavorare i personaggi, una volta che ho determinato la fonte di luce, la direzione della luce, dopodiché, perché probabilmente hanno dei colori codificati, se non dall'editore, ma da me. Cioè, prima di passare alle tavole c'è stato il character design, quindi io so che questo tipo qua avrà la giacca di quel marrone lì, o comunque marrone scuro. E poi ci sono gli sfondi, quindi dare la profondità di campo, la tridimensionalità, le texture. E anche lì poi bisogna guidare. E tu hai delle preferenze rispetto ai generi fumettistici, oppure il tipo di lavoro che ti piace fare? Sì, il supereroistico e la fantascienza sono sicuramente i miei preferiti. Danno un sacco di possibilità alle luci, colori non naturali, quindi si può giocare tantissimo. Allo storico, invece, magari è un attimo più, deve essere realistico, bisogna fare attenzione ai colori delle casate, gli abiti d'epoca, che so, non posso colorare di viola un popolano. Cioè, il viola è il colore della ricchezza, se faccio un popolano vestito di viola, l'editor mi manda a casa. Cioè, il viola è il colore della ricchezza. Cioè, il viola è il colore della ricchezza.